I rifiuti speciali in Puglia devono tornare ad essere gestiti dalla regione. La gestione di discariche di inceneritori da parte della provincia di Taranto è avvenuta sinora in contrasto con i pareri dei comuni e delle popolazioni. Sul raddoppio dell'inceneritore di Massafra siamo sempre più convinti che la revoca delle deleghe alla provincia di Taranto era ed è una priorità per restituire il controllo delle tematiche ambientali alla regione Puglia, sottraendole ad un ente che oramai non vede più il presidente eletto direttamente dai cittadini. Infatti il raddoppio del termovalorizzatore di Massafra che la provincia di Taranto presieduta da Tamburrano ha definitivamente autorizzato è totalmente in contraddizione con la richiesta pervenuta dal comune di Massafra di rimettere in discussione integralmente l'iter procedurale datato 2012. La provincia di Taranto invece ha fatto una valutazione diversa ed ha chiesto solo un adeguamento del progetto in riferimento alla tipologia del combustibile da rifiuti, decidendo di non metterne in discussione la realizzazione, avallandone la realizzazione e quindi concludendo l'iter autorizzando definitivamente il raddoppio. Attendiamo dunque di poter ripristinare una corretta valutazione del quadro autorizzativo, conclude così Borracino, con la nostra proposta di legge per sottrarre le deleghe alle province che attende di essere calendarizzata e discussa in consiglio regionale.